Sapete quali sono i miei film preferiti? No, non le commedie, non i film dell'orrore, non i gialli. I miei film preferiti sono i pippardoni. Eppure rivolgo indietro le due ore che ho perso guardando The Lost Daughter, La figlia oscura, su Netflix. Per due ore in questo film non succede niente. Ok, c'è Olivia Colman che è praticamente la nuova Maggie Smith e gli manca soltanto dei fa, a parte del posacenere nell'ultimo film uscito qua in Gran Bretagna, ma poi per il resto li ha fatti tutti gli altri. E poi c'è Dakota Johnson che è bellissima, onestamente proprio perfetta, però ecco la sua scena più rilevante è la seguente. Si presentano le due protagoniste e Dakota Johnson nel salutare queste le fa. Che giuro io mi sono vergognata a farvelo, ma mi sono pure vergognata a vervelo perché ho detto ma che sta succedendo? Tipo non ho capito, non c'aveva proprio senso secondo me, non si capiva proprio. In tutto questo c'era una regia folle in cui il regista e il regista manco, non so, faceva delle represe di questo tipo. Sapete quali sono i miei film preferiti? No, non le commedie, non i film dell'orrore, non i gialli. I miei film preferiti sono i pippardoni. Eppure rivolgo indietro alle due ore che ho perso guardando The Lost Daughter, La figlia oscura, su Netflix. Per due ore in questo film non succede niente. Ok, c'è Olivia Colman che è praticamente la nuova Maggie Smith e gli manca soltanto dei fa, a parte del posa-scenere nell'ultimo film uscito qua in Gran Bretagna, ma poi per il resto li ha fatti tutti gli altri. E poi c'è Dakota Johnson che è bellissima, onestamente proprio perfetta, però ecco la sua scena più rilevante è la seguente. Si presentano le due protagoniste e Dakota Johnson nel salutare queste le fa. Che giuro io mi sono vergognata a farvelo, ma mi sono pure vergognata a vervelo perché ho detto ma che sta a succedere? Detti tipo non ho capito, non c'aveva proprio senso secondo me, non si capiva proprio. In tutto questo c'era una regia folle in cui il regista e il regista manco non so, faceva delle represe di questo tipo. Sapete quali sono i miei film preferiti? No, non le commedie, non i film dell'orrore, non i gialli. I miei film preferiti sono i pippardoni, eppure rivolgo indietro le due ore che ho perso guardando The Lost Daughter, la figlia oscura, su Netflix. Per due ore in questo film non succede niente. Ok, c'è Olivia Colman che è praticamente la nuova Maggie Smith e gli manca soltanto dei fa, a parte del posa-scenere nell'ultimo film uscito qua in Gran Bretagna, ma poi per il resto li ha fatti tutti gli altri. Poi c'è Dakota Johnson che è bellissima, onestamente proprio perfetta, però ecco la sua scena più rilevante è la seguente. Si presentano le due protagoniste e Dakota Johnson nel salutare queste le fa. Che giuro io mi sono vergognata a farvelo, ma mi sono pure vergognata a vervelo, perché ho detto ma che sta succedendo? Tipo non ho capito, non c'aveva proprio senso secondo me, non si capiva proprio. In tutto questo c'era una regia folle in cui il regista e il regista manco non so, faceva delle represe di questo tipo.